Bella Wolfini e bentornati all'OnWolf22 Channel Siamo tornati con un nuovo video Ragazzi oggi siamo tornati con i pack opening Della settimana scorsa Allora, praticamente questo è un primo pack Proprio del weekend Quindi fuori classe 3 Un pacchetto premium SDS Insomma, il classico Più, ragazzi, dopo ci sarà anche Quello lì, mensile, che abbiamo fatto Fuori classe, quindi ragazzi Tanta roba, andiamo ad aprire il primo pack Che è il pacchetto giocatori Oro Maxi E abbiamo trovato Iron Ramsey, ragazzi Iron Ramsey, questo è un pacchetto veramente triste E comunque Cioè Alla fine sti pacchetti Difficilmente ho trovato gente proprio forte Comunque la cosa buona di questi Weekend League è che ti fa salire Tanti soldi, cioè ragazzi, veramente tanti Alla fine abbiamo preso 70 Poi, insomma, la vendita di questi giocatori In totale, più o meno Farà Almeno 24 Poco meno di 20.000 Tutti insieme Però qualcuno Magari lo vendiamo un po' di più Quindi più o meno un 20.000 Pure in più Oltre ai 70 Che abbiamo preso di Cioè in generale Insomma Sono buoni E poi c'è il pacchetto premium SDS Questi sono i più belli Perché, regà, pure se li scarti Sono 10k E abbiamo trovato Diego Lopez Diego Lopez, regà, che pensavo Ho detto Vabbè, bello schifo Bello schifo nel senso che Non è che è male Però quando fai la vendita Comunque del giocatore C'hai Dante E pure Fornals Dici Ma questi non li vendo tanto Invece Diego Lopez Ho confrontato il prezzo E qui in questo momento Nessuno più o meno Comprava Ma poi alla fine Siamo riusciti a venderlo A 27 E gli altri Tutti e due A 20 più o meno Adesso però Andiamo ai pacchetti Mensili ragazzi Le due divise Molto fighe Che però sulla Food Champion Non si possono mettere Perché Se le metti Regà Equitano tutte le partite Prima di iniziarle E più un pacchetto Ovviamente Di tutti Quei giocatori If Che sono 11 Cioè Una gran figata Quindi in totale Regà In questo video Abbiamo 14 If Andiamo a Anzi sono 12 Com'è possibile Non mi ricordavo Che fossero 12 Mi ricordavo fossero 11 Perché 12 Quindi Abbiamo trovato comunque Petro Sono rimasto abbastanza Scontento Da questo premio mensile Dico la verità Perché comunque Petro Magari L'altra volta Abbiamo trovato Lewandowski Quindi Immaginate Però abbiamo trovato Insigne Regà E Mertens Che secondo me Con Buonaventura anche Che sono ottimi Per fare una serie A Immaginate che Nello scorso mese Io ho trovato anche Donna Rum Quindi è forte Pure lui E la serie A Potrebbe uscire Bella forte Poi c'è Questo difensore Regà Vogt Che io l'ho provato Durante questa Weekend League Ed è veramente bravo Cioè è forte sul serio Cioè ragazzi È fisico È veloce È un bel difensore Poi abbiamo trovato Tipo Ai Comunque È un buon pack Non è che stiamo dicendo Che fa schifo Però ovviamente Se non sono vendibili Ci facciamo poche niente Cioè se potevamo venderli Era molto molto meglio Comunque ragazzi Con questo lasciate un bel mi piace Superiamo i 600 mi piace Regà E noi Ditemi ovviamente Che avete trovato voi Sul pack mensile Qui sotto nei commenti E anche su quello settimanale E ci vediamo presto Con un prossimo video